Giovedì 8 aprile, buongiorno e ben trovati dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Massimiliano Chiocchio. Prima edizione della telegiornale che apriamo con i numeri della pandemia in Molise. Ieri altre 4 vittime sono tutte sotto gli 80 anni e vivevano a Cerce Maggiore, Casa Calenda, Termoli e Campomarino. I contagi invece continuano ad avere numeri bassi. Nelle ultime 24 ore sono stati 24 nuovi positivi su 711 tamponi processati con un tasso di positività al 3,3%. In leggero calo il numero dei ricoverati. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Quattro persone sono morte nelle ultime ore in Molise a causa del Covid. Si tratta di una donna di 78 anni di Cerce Maggiore, di una 79 anni di Casa Calenda, che erano ricoverati in malattie infettive del Cardarelli, di un uomo di 60 anni di Termoli, di un 75 anni di Campomarino deceduto in terapia intensiva dell'ospedale di Campobasso. Quello dei decessi purtroppo è l'unico dato che ancora continua a destare preoccupazione in Molise perché gli altri parametri sembrano essere tutti in graduale miglioramento. L'ultimo bollettino dell'Asrem riporta tre nuovi ricoveri in malattie infettive del Cardarelli e di un paziente dimesso dalla terapia subintensiva del Neuromed. Resta basso il numero dei nuovi contagi, 24 sui 711 tamponi processati, con un tasso di positività del 3,3%. 6 nuovi casi a Campobasso, 3 a Ferrazzano, numeri compresi tra due e un caso negli altri 11 comuni interessati dal Covid. La curva dei contagi dunque continua a scendere in maniera decisa da qualche settimana ormai, mentre aumenta il numero delle persone che hanno sconfitto la malattia. Nell'ultimo bollettino dell'Asrem ci sono ben 60 guariti. Scende di conseguenza a 654 il numero degli attualmente positivi, così come si allenta la pressione sugli ospedali. Sono 60 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 9 in terapia intensiva, 2 al Santimoteo di Termoli, 3 al Gemelli e altrettanti al Neuromed. I decessi dall'inizio della pandemia sono 454, mentre i guariti in totale sono 11.372. Si è tenuta in modalità telematica la seduta della conferenza dei sindaci, convocata dall'azienda sanitaria regionale su richiesta del sindaco di Campobasso Roberto Gravina e di altri sindaci della regione, per definire le nuove cariche direttive dell'organismo che si è andato così da ricostituire dopo diversi anni. Oltre 90 i sindaci collegati che hanno eletto presidente il primo cittadino di Agnone, Daniele Saia, con 749 voti. Vicepresidente è stato eletto il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio. Nel direttivo entrano i sindaci di Termoli, Roberti, Venafro, Ricci, Campobasso Gravina e Larino Puchetti. L'organismo appena ricostituito potrà ora avere un ruolo importante nelle prossime decisioni che saranno adottate in tema di riorganizzazione sanitaria. E adesso parliamo del settore della pesca che è profondamente in crisi, ma ci sono ancora molti fondi europei da spendere e la marineria aspetta. La pandemia ha aggravato la situazione. Il servizio di Andrea Nasillo. Una crisi sempre più nera. Il settore della pesca vive un momento difficile. Ci sono ancora tanti fondi europei da spendere. La gestione dei finanziamenti è affidata alle regioni e i pescatori termolesi aspettano. L'attesa per ora è vana. I fondi europei, che si chiamano FEAMB, destinati al settore della pesca, quindi solo al settore della pesca, solo nella regione molise erano 4 milioni di euro. Siamo arrivati alla fine del piano. Sono stati spesi circa, da quello che sappiamo, il 35%. Tutti questi soldi ovviamente torneranno indietro. Noi eravamo convinti se con questi fondi si potesse fare qualcos'altro, magari gestire la sanità. Invece questi sono fondi destinati alla pesca che torneranno indietro. E tornano indietro solo e solamente perché la regione non ha fatto quello che doveva fare. I problemi del settore si sono aggravati nell'ultimo anno di pandemia e nelle ultime settimane a creare altri danni ci ha pensato anche la mucillaggine. L'intervento delle istituzioni serve? È necessario? Proprio in questo momento si sentiva il bisogno di questi fondi. Noi abbiamo partecipato a una serie di videoconferenze anche col presidente della regione, sperando che facevano almeno questi bandi covid previsti dal piano FEAMB che altre regioni hanno fatto. E noi siamo in attesa ormai da 12 mesi e non si vede la strada, non si vede nulla. Il dramma è che questi fondi torneranno indietro. Quindi nel prossimo piano finanziario sicuramente la regione molise avrà meno fondi perché non sono stati spesi. Ma d'altronde abbiamo un ufficio regionale che non esiste senza dipendenti. Tante famiglie vivono questo disagio, un indotto importante, tassello rilevante dell'economia cittadina e regionale. Termoli è ormai diventata una delle marinerie più numerose dell'Adriatico dopo la crisi delle altre. E qui attorno alla pesca girano tra l'indotto e tutto circa 600 persone. Quindi voglio dire, credo che sia una delle aziende più grosse del Molise. E non avere un'attenzione su questo settore mi sembra veramente assurdo. E con la nostra informazione ci fermiamo. Adesso uno sguardo ai quotidiani. Sul giornale de Molise.it in apertura c'è l'emergenza sanitaria. Covid migliorano tutti i parametri tranne quello dei decessi. Ancora quattro vittime. Anche quest'altra notizia, il Molise riparte dal turismo presentata la piattaforma Visit Molise. Gli altri titoli, vaccinazioni, partite, le prenotazioni per gli appartenenti alla fascia di età, compresa tra i 70 e i 79 anni. Vediamo qualche altra notizia. L'aggiunta comunale di Lucito conferisce la cittadinanza onoraria al milite ignoto per il centenario della tumulazione all'altare della patria, avvenuta il 4 novembre 1921. Avete sentito anche nel nostro Tg, conferenza dei sindaci Asrem, Saia, eletto presidente da Polonio, è il vice. Intanto, per quanto riguarda l'emergenza Covid, Ernesto Lavecchia del sindacato Fismu propone il vaccino dei della medicina generale. Viniarric, via libera al piano economico e finanziario, Tari, intanto migliora il servizio della differenziata. Ora, futuro Molise, l'apertura sulla nomina del sindaco di Agnone alla conferenza dei sindaci Asrem, rispettate le previsioni, lo vediamo qui nella foto più in basso. Covid, la torre fantasma, Toma smentito dai fatti. C'è anche il bollettino con i dati e i contagi in Molise, 24 positivi e 4 morti. Il bollettino ufficiale dell'Asrem diffuso ieri sera e, stando in tema di sanità, slitta l'insediamento del nuovo commissario ad acta. Siamo adesso su primo piano. Pochi casi accertati, ma altri 5 decessi. Questo è il titolo di apertura tra le vittime. Un 58enne di Santa Croce e una 60enne di San Martino. Sono morti pure un 75enne, una 78enne e una 79enne. 24 contagi su 711 tamponi, il tasso al 3%. 60 i guariti, 3 nuovi ricoveri e un dimesso. 68 i pazienti negli ospedali, 14 in rianimazione. Dunque questa è la sintesi del bollettino Asrem diffuso ieri sera. Tra i richiami, ma adesso anche qui si parla della conferenza dei sindaci, assemblea dei sindaci, saia eletto presidente. Restiamo in un argomento su Covid, vaccini agli over 70, 9500 iscritti in poche ore sulla piattaforma Asrem. Alta l'adesione dei candidabili. Adesso a busso, l'autista del bus positivo al test, il primo cittadino, avvisa gli studenti. Si parla anche del recovery. Vertice governo regioni, Toma punta sulla quattro corsie, tra le infrastrutture portate al tavolo oppure l'elettrificazione fino a Termoli. Qui si parla di strade ferrate, dunque ferrovie. Di spalla, una lettera umiliata e indignata. Parrucchiera scrive a Draghi. Ha scritto dunque al premier per manifestare la sua indignazione. Non ha diritto ai ristori, perché lo scorso anno ha lavorato poco, era in dolce attesa. Andiamo a vedere le altre notizie, gli altri richiami. Siamo di spalla. A Venafro c'è un folle che esplode pallini di piombo contro i gatti, indagano i carabinieri forestali. Da Montenero invece, autosalone divorato dalle fiamme, gli inquirenti non escludono il dolo. Incidente ieri sulla 14, schianto tra Vasto e Termoli, furgone distrutto, miracolati gli occupanti. La rubrica Il Punto, oggi porta la firma del direttore Luca Colella, friggere con l'acqua a noi viene bene. In alto c'è lo sport, lupi, 2.500 euro da pagare all'ex San Severino. Il club ricorre al Tribunale federale. In casa Vasto Girardi parla di lucente, soprattutto tuona di lucente contro la squadra e dice qualcuno si è imborghesito. Infine il basket. Ecco il nuovo inno della Magnolia, composto da Raffaele Spidalieri. Passiamo all'informazione nazionale. Qui sono due le notizie che troveremo sui maggiori quotidiani. C'è la questione AstraZeneca e poi quello che è stato definito lo sgarbo di Erdogan all'Ursula von der Leyen. Andiamo con ordine, iniziamo con l'apertura del Corriere della Sera. AstraZeneca oltre i 60 anni, dunque la circolare seconde dosi senza limiti, dicono Draghi, avanti con gli anziani e intanto le regioni vanno all'attacco. Per l'Agenzia europea dunque è possibile un nesso con rari casi di trombosi, soprattutto in donne più giovani. Ecco perché è spiegato oltre i 60 anni. Dicevamo di questo che è stato definito uno sgarbo ed è un incidente forse diplomatico. Vediamo questa fotonotizia a centro pagina. L'offesa a von der Leyen lasciata senza sedia. Stiamo in Turchia. Critiche a Erdogan ma anche al capo del Consiglio europeo per il suo silenzio. Qui vediamo la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che è di spalle. Al centro Charles Michel e poi il Presidente turco Erdogan. Non gli è stata data la sedia ma è stata relegata su un divano. Passiamo adesso a Repubblica. Il verdetto su AstraZeneca meglio dai 60 ai 79 anni. È l'indicazione preferenziale data dal governo alle regioni dopo gli ultimi esami dell'EMA. Il vaccino è sicuro, ha stato detto gli esperti intanto al CTS, così il piano di somministrazione è sarà più veloce. Contagi in discesa ma ieri il bilancio ancora è come dire crudo, 627 morti. Leggiamo ancora nel sommario. Lavoro, nuove proteste, parla Landini, no licenziamenti fino ad ottobre. Chiediamo Repubblica per andare a dare uno sguardo al fatto quotidiano che oggi punta il dito sulla Moratti. Siamo in Lombardia. Vergognati, scrive il quotidiano di Travaglio, anziani in coda al gelo. La follia dei vaccini senza prenotazione. File anche in carrozzina. Bertolaso intanto dice no a poste su tre piattaforme. Dal fatto quotidiano a Libero all'Italia saltano i nervi le ragioni del dilagare della protesta. Le manifestazioni a Roma e Milano sono appena l'inizio. Gente in piazza e in altre decine di città. La maggioranza silenziosa alza la voce poiché non ce la fa più e si sente tradita dalla politica. I ristori arrivano prima ai dipendenti all'Italia, aggiunge Libero, che ai negozi che sono rimasti chiusi. Il tempo di Roma. Pasticciaccio AstraZeneca. Basta prime dosi sotto i 60 anni. L'Italia cambia le vaccinazioni. Prima dosa solo fra 60 e 79 anni. Ma la seconda si inocula a tutti. L'EMA aveva assolto il vaccino, ma il nostro governo non si fida e consiglia lo stop alle regioni. Confusione totale degli esperti e anche speranza. Balbetta. Ora Draghi, scrive il tempo, rassicuri il paese. Vedete qui anche la fotonotizia. Erdogan toglie la sedia a Ursula e umilia l'Unione Europea. Dal tempo adesso al mattino di Napoli, analoga apertura, dicevamo già all'inizio della nostra segna stampa. AstraZeneca solo agli over 60. Cambia l'età di somministrazione del vaccino. Abbiamo visto che l'EMA dice che c'è un possibile nesso con rare trombosi. Di spalla, se non fa sistema, il Sud sprega il recovery. Dunque si parla di lavoro e anche di conseguenza di economia. titolo ad effetto, come spesso accade con il manifesto, la cuna nel lago. Vediamo qui anche una fialetta con il vaccino. Scrive il quotidiano, piano vaccini da rifare. L'Italia limita l'utilizzo di AstraZeneca agli over 60, anche se l'EMA non ha posto limiti d'età. I benefici, stato detto, superano i rischi, ma c'è un nesso con i casi rari di trombosi. L'Europa verso la restrizione. Intanto gli Stati fanno da sé no allo stop per il richiamo. In alto, Landini serve un piano per il lavoro. Lo ha detto in audizione al Senato e chiede il blocco dei licenziamenti fino alla fine di ottobre. Chiudiamo il manifesto per vedere la prima è l'apertura di avvenire. Anche qui vaccini, cambio in corsa. Cresce la protesta intanto di chi non può lavorare. Possibili riaperture dal 20 aprile, ma si complica la campagna di immunizzazione. A centropagina niente sedia a von der Leyen, sgarbo di Erdogan discriminata la Presidente della Commissione europea. Il sole 24 ore punta su questa notizia. Vaccini a maggio in 500 aziende. Le possibilità di iniezioni in loco in strutture convenzionate o all'Inail. Confindustria dice che è un passo avanti, pronti a collaborare per il bene del Paese. Parla anche Orlando. Una opportunità. Metteremo in sicurezza milioni di lavoratori. La stampa di Torino. Ecco l'apertura. Chaos vaccini. AstraZeneca agli over 60. L'agenzia europea non limita l'uso del farmaco. Parla Speranza. Dice ma il piano non cambia. Intervento anche di Crisanti. Ema vergognosa. Non possono decidere i singoli paesi. Taglio centrale. Il caso Turchia. Dunque vediamo qui Erdogan e Michel seduti su una sedia. Nel sofà gate del regime Michel si inchina al sultano. In questo caso il sultano è Erdogan. Diamo uno sguardo al secolo d'Italia. Il sofà gate di Erdogan umilia le donne e l'Unione Europea. Meloni dice basta è un affronto quando il protocollo è sostanza. Ed è stata una figuraccia dell'Unione Europea. Questo secondo la lettura del secolo d'Italia. Più in basso AstraZeneca. Governo sceglie di darlo a chi ha più di 60 anni. Adesso lo sport sulla gazzetta. Ieri importanti appuntamenti nel massimo campionato. Vediamo subito. Inter ballo scudetto. Decima vittoria di fila. È quasi irraggiugibile. Lukaku. Lautaro. Due a uno al Sassuolo. Conte in conferenza dice non piace il gioco. Allora andremo dall'estetista. Sarebbe bello spodestare la Juventus. E in alto, a proposito di Juventus, Pirlo che gioia. La signora c'è. Vince 2-1 allo Stadium. Decisivo anche Buffon. Cristiano Ronaldo e il ritrovato di Bala salvano il tecnico. La Juve è terza. Il Napoli si sveglia tardi. A fondo pagina Europa League. La Roma difende l'Italia e Fonseca. Stasera ad Amsterdam l'andata dei quarti di finale. Contro l'Ajax l'allenatore si gioca tutto e si riaffida ai gol di Dzeko. Bene come sempre con lo sport. Terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Informazione che torna alle 14 con la seconda edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.